Noi stiamo battagliando, abbiamo una paura boia dei musulmani, ma quando è che comincieremo ad entrare? I musulmani per esempio sentono che tutta la guerra che abbiamo fatto per esempio in Iraq era una guerra dell'occidente cristiano contro l'islam. Ci torniamo tra pochissimi secondi, guardiamo la possibilità a Manconi e Galimberti di interagire per l'ultima volta. Ogni volta che lei dice musulmani io penso a Salvini e quindi capisce, in Italia abbiamo un problema specifico. Non perché siamo musulmani, questo lo spieghiamo magari. Un momento e torniamo con voi. Auspicchiamo la conversione di Salvini all'islam.